Bella a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video Siamo sul canale di Papa e oggi andiamo avanti con Nioh Sono due video che devo cercare di battere un boss Ma non l'ho battuto semplicemente perché Prima son morto di brutto Poi un evocatore è andato via Eccetera eccetera Quindi Adesso sto riprovando a battere questo boss In un video proprio a se stante C'è solo questo Entriamo nel gioco Abbiamo un visitatore Per fortuna Minchino Così magari non se ne va Cos'è sto robo? Non lo so Basta che ce ne andiamo Sperando che non muoia E sperando di riuscire a uccidere Quel boss Perché io da solo non gli ho tolto niente Ma nel senso Ho provato anche a rifarlo una volta Ma non gli ho tolto niente Ma zero Dai su ma che due palle È morto perché è caduto nell'acqua Vabbè sentite facciamo una cosa Chi fa da sé È risapuro che fa dal tre Quindi andiamo da soli E proviamo a battercelo per i cazzi nostri Non è possibile Muoiono tutti Quindi Siamo qui Abbiamo Poco di tutto Ma in qualche modo Dobbiamo farcela Per forza Solo che sta molto addosso Boh non so se devo attaccare le mani o cosa Questo fuoco qui Forse devo attaccarlo col fuoco Grazie che ti rialzi dopo mezz'ora E vabbè Allora io posso anche capire Che noi stiamo facendo un po' i cazzoni Ma minchia Cosa stracazzo ci ha fatto Ci ha disintegrato Voi cosa ne pensate Quanto ci metterò a battere questo boss Siate sinceri Prima Prima di vedere il video Tanto questa parte Sicuramente non la taglio Per ora Quindi questi due minuti Saranno puliti Vediamo Probabilmente anche la prossima morte Non la taglierò Dalla Dalla terza Sì Ovviamente poi ve lo dico Quante volte sono morto Voi però Prima ditemi Quante volte pensate Che io possa morire E ditelo Perché se no Non è giusto Sapete che forse Con la fiamma Abbiamo aperto tipo lì Perché prima Non mi ricordo Che siano le fiamme qua Ok beh sicuramente Devo togliere di vita Però io se mi paro Esigo Un po' di parato Madonna mia Nel senso Così un po' di parato Così un pochino Quindi lo C'è Il fuoco E che cazzo però Ah però Solo tre Avete capito Solamente tre ne posso fare Cacca bestia Quindi è un gioco di velocità E daie Messe Ma non mi rompere va Cacca bestia Ma non l'hai caricato Neanche Neanche l'ha caricato Ok ragazzi Ci riproviamo La undecima volta Prima siamo riusciti A fargli un po' di danni in più Infatti siamo entrati In una seconda boss fight Cioè Ha cambiato Stile di combattimento Infatti è entrato anche in campo Non pensavo Sarebbe successo Ed è stata la prima volta Anche che lo vedevo Quindi Possiamo dire che abbiamo Progredito un pochino Da lì però A dire che adesso Ce la facciamo Se ce n'è di strada No Non sono ancora per niente certo Quando apre la bocca Ragazzi Togliamo Tutto Tutto Ma veramente tutto Anche adesso Non mi stiamo facendo poco Ok Ahia Ecco Quando ti provvedete La bocca è così Siamo pronti A morire Stiamo doendo un po' di vita Sono parecchio contento Di questo Figa raga D'avere avuto un po' più di energia I toglievano tutto Però vedete Ora siamo per Cilia Guardate Non ci ha ancora fatto danno Dai D'amuse Infondi a col fuoco Non vorrei che Mo' già Entri in campo No non ancora Va bene Meglio Perché si fuori Non in campo Ok ma arriverà in campo Quasi sicuramente Doveva arrivare in campo Ora Aiaiaiaiaiaia Agliissima Ok Io spaccare prima I suoi amichetti Perché Buona vita Via Vai Se i suoi amici muoiono Ok Voi non sapete cosa è l'ansia Finché non ho giocato a questi giochi C'è ancora un fuocherello Però eh Sfruttiamolo va Potrebbe essere la nostra unica Vigli scampo E daie E daie E daie Stavolta Doveva essere quasi andata Ma smetti di sputare Se schifezze Aiaiaiaiaiaia Aiaiaiaiaia E sei morto E sei morto Raga voi da casa Spero mi facciate un applauso Me lo dovete fare Me lo dovete fare Per forza Me lo dovete fare Io esigo un applauso Perché è la undicesima volta Sono 46 minuti Che lo faccio Ragazzi Con questo video si conclude Andiamo avanti nel prossimo video Adesso assolutamente no Spero che il video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Come sempre Lasciate un mi piace Commentate Condividete Ma specialmente iscrivetevi al canale Perché dobbiamo sempre Rimanere aggiornati Su quello che faccio io Perché dovete essere interessati O no Ci vediamo la prossima volta Cioè domani Al prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti